E' una delle più grandi incompiute italiane. Il primo finanziamento del progetto risale al 1979, quando ancora rientrava nella cassa del Mezzogiorno. Oggi, quella che sarebbe dovuta diventare la diga più grande d'Europa, ancora non esiste, anche se fino ad ora è costata oltre 500 milioni di euro, l'esproprio di circa 160 abitazioni ed evidenti danni ambientali. Ecco perché Luca Branda, il sindaco di Sant'Agata d'Esaro, paese di a malapena 2.000 abitanti nel Cosentino, in cui il Colosso sarebbe dovuto sorgere, ora dice bassa e fa sapere che intenterà azioni legali, tra cui anche una class action, per chiedere risarcimento anche in termini di investimenti strutturali e di sviluppo. Ad esempio, tramite una strada di collegamento con il Tirreno o qualunque tipo di progetto sviluppabile sulle macerie della diga, come l'idea di cui si parlò per molti anni della realizzazione di una struttura turistico-ricettiva affiancata ad un grande campo da golf. Un'idea mai realizzata perché la multinazionale interessata avrebbe avuto bisogno della concessione dei terreni da parte del Comune, che al momento è bloccato dal Governo. Porteremo avanti ogni iniziativa democratica per pretendere una bonifica di quei terreni che dovevano essere interessati dalla costruzione della diga, annuncia il primo cittadino, ma anche per capire se l'elevato tasso di malattie mortali nella zona sia in qualche modo legato all'inquinamento dell'area.